Ottavo capitolo, Diana Il tempo scorre sempre troppo veloce. Più cresci, più gli attimi sembrano scivolarti addosso. Pian piano smetti anche di rendertene conto. Secondi, minuti, ore, giorni, tutto diventa un groviglio confuso, un insieme di avvenimenti e occasioni perse che si sosseguono senza senso. E in pochissimo tempo, dal ricordare che cosa hai mangiato nel lontano capodanno del 2004, dimentichi addirittura come ti sei vestita il giorno prima. I ragazzi, però, hanno trovato un modo perfetto per fissare il tempo e fare in modo che sia accessibile a chiunque. Certo, la privacy viene praticamente distrutta, annientata, dimenticata. Ma che importa se hai il prezzo da pagare per vivere per sempre? A me questa cosa ha sempre fatto un po' paura. Certo, mi affascina l'idea che probabilmente la mia identità vivrà per sempre. Basta postare una foto su Instagram ed ecco che hai fissato un momento, un istante, impresso su un display per secoli o addirittura millenni. Tutti possono vederlo e sei tu a scegliere cosa mostrare. Vuoi essere chi vuoi, quando vuoi, come vuoi. Ma io ho sempre preferito rimanere me stessa. Mentre scorro le stories di Chiara, che posta foto su quanto sia dura la sua università, lei mentre studia, lei mentre scrive e lei mentre mangia, penso a quanto sia assurdo che le persone possano davvero fare qualsiasi cosa senza mai farla davvero. D'un tratto un campanello mi risuona nella testa e migliaia di lampadine cominciano lentamente ad accendersi, una dopo l'altra, illuminando aria del mio cervello che non ricordavo nemmeno di avere. Mi ero tanto impegnata a cercare profili su Facebook, che sono quasi impossibili da decifrare, senza minimamente pensare alle migliaia di possibilità di un social come Instagram. In meno di un mezzo secondo sto già scorrendo tutti i nickname esistenti con il cognome Larussi. Centinaia di ragazze, ragazzi, uomini di mezza età e anche qualche dodicenne vengono letteralmente disossati dalla mia fame di sapere. Foto, stories, biografie, dati di nascita, follower in comune, tutto ciò che può essere degno di nota viene registrato e appuntato, in modo da avere un quaderno con le informazioni di base da cui partire. E poi, ammettiamolo, in questo modo mi sento un vero detective. Magari non arriverò a niente, ma almeno mi sarò divertita. Le mie indagini, però, si trasformano presto in un infruttuoso vagare tra migliaia di profili diversi. Account dopo account. Mi sembra di essere entrata nel film Inception. Sto sbirciando i seguaci dei seguaci dei seguaci di quell'amico di un seguace di un tipo che aveva il mio stesso cognome. Che mal di testa. Utilizzando la funzione follower in comune, però, sono riuscita a giungere a una conclusione interessante. Alcuni dei profili setacciati sono seguiti da cinque o sei account che si ripetono. Lo segno sul mio quaderno, convinta di essere a una svolta epocale. Apro tutti i profili e rimango delusa nello scoprire che non c'è molto di interessante. Solo uno attira la mia attenzione in modo particolare. Chiocciola Selene Drawings. Non ci sono foto sue. L'unica cosa che posta sono disegni. Molto belli. In stili diversi. Per lo più ritratti. Credo che siano dei greci, ma chi lo sa. Ne apro uno che mi piace particolarmente. L'acquerello di una donna con un paio di bellissimi occhi azzurri che incocca una freccia nel suo arco intarsiato. Artemide. È l'unica parola nella didascalia. Ci ho preso. Scorro i disegni. Mi accorgo che ci sono prevalentemente volti maschili. E si assomigliano tutti fra loro. La cosa mi insospettisce non poco. Varie divinità, c'è anche qualche dea. Greche, ma non solo. Corpi diversi, ma lo stesso volto. Impossibile non riconoscere quegli occhi così freddi, di un azzurro talmente chiaro da sembrare ghiaccio. Non ci sono storie. Cavolo. Sono davvero curiosa di vedere com'è lei. Magari le donne le ha disegnate a sua immagine e somiglianza. Impossibile. Sono tutte diverse. Palesemente diverse. Niente da fare. Inizio a mettere un po' di like a raffica, non tanto per farle sapere che apprezzo il suo lavoro quanto perché mi noti o mi scriva. Sono un artista anch'io, dopo tutto. Si tratterebbe di un semplice scambio culturale, no? Sbuffo, gettandomi all'indietro sul letto. Mi copro gli occhi. Perché non riesco a smettere di prendermi in giro? Fuori luogo. A volte abusiamo di questa espressione. La usiamo nelle situazioni più stupide, quando non è necessaria. Questa maglietta è un po' fuori luogo. Non credi di essere stata fuori luogo quando hai detto quella cosa? Secondo me il tuo cane che abbai è totalmente fuori luogo. Non penso di aver mai compreso davvero il significato di queste due semplicissime parole accostate. Fino ad oggi. Ora sì che mi sento totalmente fuori luogo. Non ho mai indossato un vestito del genere. Non ho mai nemmeno pensato di poterlo anche solo provare. E invece eccomi qui, con un cortissimo abitino nero dalla scollatura vertiginosa, direttamente dalla rinomata boutique l'Armadio di Arianna. Sono sicura che in questo momento il mio angelo custode si sta facendo delle grasse risate. Gli ho chiesto più volte nel corso della giornata di salvarmi da questo supplizio. Per tutta risposta, lui mi ha mandato in camera di Arianna armata di truss e di tanta pazienza, pronta a trasformare il mio viso in quello di un'attrice appena candidata agli Oscar. La mia faccia non ci si avvicina minimamente, ma almeno posso dire di avere lo stesso make-up. Sono in mezzo a una pista da ballo. Mi muovo imbarazzata mirando Arianna che si scatena rovesciando ovunque il suo quarto o quinto drink. Luca è sparito da un po'. È arrivato, ha posato il cappotto e poi non l'abbiamo più visto. Io cerco di sorseggiare il mio sex on the beach, ma lo trovo disgustoso. Arianna ha insistito tanto perché lo assaggiassi. Sono astemia, con lei non ha mai funzionato. Stavolta avevo deciso di accontentarla, ma ho fatto un grave errore. Ti stai divertendo? Urla cercando di sovrassare la musica decisamente troppo alta. Credo che alla fine di questa serata avrò un mal di testa lancinante. Annuisco, cercando di accennare un sorriso e alzando il drink verso di lei. Lei mi fa un sorrisone e mi si avvicina un po' di più. Riesco a sentire il suo profumo. Misto ha un intenso odore di alcol. Mi fa impazzire. Cosa? Diana no, smettila. Cerco di distrarmi. Centinaia di universitari sbronzi si agitano come anguille. Qualcuno si è nascosto in qualche angolo della discoteca per pomiciare. Qualcun altro, invece, non ha ritenuto importante questa cortezza e se ne sta lì impalato al centro della pista a esplorare con la lingua la bocca dell'altro. O dell'altra. Imbarazzata, torno da Arianna, che invece si lascia trascinare dal ritmo della musica. Mi sta praticamente ballando addosso ormai e anche io comincio a sciogliermi un po'. Quei pochi sorsi di sex sono già troppi per me. Sento le guance andarmi a fuoco. Per i gusti di Arianna, però, ne ho bevuto poco. Guarda prima me, poi il mio bicchiere, in maniera fin troppo eloquente. non so cosa mi prenda. È un attimo. Ricambio il suo sorriso ammiccante e l'istante dopo butto giù tutto quello che resta del drink. Cavolo. Mi gira la testa. Arianna sta ridendo. No, sta piangendo. Non lo so. Mi abbraccia. Io ricambio l'abbraccio. Mi piace. È profumata. Stiamo ballando. C'è anche Luca, adesso. Quando è arrivato? Ci abbraccia anche lui. Odora di buono. Divertiamoci. Credo sia stato Luca a biascicare questo invito. Io credo di essermi divertita abbastanza per stasera. Sento lo stomaco sottosopra. Mi sa che devo vomitare. Arianna ride. Ci stringe più forte e continua a saltare. Questo non fa per niente bene alla mia nausea. No, no. Balliamo, grida, cercando di sovrastare il rumore. Dio, ma che musica ascolta nei giovani. E quanto sono vecchia dentro per aver pensato una cosa del genere. Oh no, ora sbocco. Vomito, sussurro, tenendomi forte lo stomaco. Lo sento, sta arrivando. Cosa? Chiede Arianna, continuando a ballare e a saltare. Luca accenna i passi di un lento. Da solo. Non è messo tanto meglio di me. Sto per vomitare. Prima che riesca a finire la frase, il mio stomaco viene colpito da uno spasmo. Sento qualcosa che risale, combattendo la gravità per arrivare direttamente in gola. Lo sento. Arriva. Non voglio vomitare. Odio vomitare. Non davanti a Arianna, no. Non voglio vomita. Un rutto irrompe con prepotenza dalle mie labbra. Sento lo stomaco improvvisamente più leggero. Sapeva di menta. Vedo Luca e Arianna che mi fissano sconvolti. Oh cazzo, che figura di merda. Mi guardo intorno. Cerco di capire se qualcun altro mi ha visto emettere questo suono celestiale. Ma sembra che nessuno mi stia guardando. Forse il mio angelo custode ha deciso di stare con me stasera. Forse solo per deridermi sorseggiando il suo mojito, ma è già qualcosa. Andiamo a casa. Arianna prende me e Luca sotto braccio, ridendo. Mentre ci trascina come due bambini al guardaroba, penso che non saprei proprio come fare senza di lei. Mi infila il cappotto, mentre io resto a fissarla imbambolata. È vicino al mio viso. Sta sistemando la cerniera. Potrei baciarla ora. Ora mi avvicino e la bacio. Ora mi… muovetevi, fa un freddo cane! Luca mi salva da una certissima figura di merda. Lo ringrazio mentalmente, mentre tossisco e finisco di tirarmi sulla cerniera. Arianna gli risponde, ma non ho voglia di ascoltare. Sto pensando al casino che ha appena sventato. Perché ce l'ho così tanto con lui in questo momento allora? Sono le tre del mattino quando riusciamo finalmente a entrare in casa barcollando. Siamo ancora tutti e tre a braccetto e ridiamo come coglioni. Non credo di aver mai riso così tanto. Sinceramente, non ricordo nemmeno perché stiamo ridendo. Ora tocca a me verità. Biascica Arianna, trascinandoci verso la camera da letto. Ah, già, obbligo a verità. Luca ha proposto di giocare mentre aspettavamo la metro. Per poco non si è buttato sui binari, per un obbligo stupido di Arianna. Non c'è niente di più pericoloso di un idiota ubriaco che viene sfidato a fare cose stupide da un altro idiota ubriaco. Allora, Arianna, con chi hai perso la derginità? La domanda di Luca mi colpisce dritta allo stomaco, togliendomi il fiato. Le mie risate si interrompono, mentre quelle di Arianna diventano più acute. Sembrano quasi ultrasuoni, cazzo. Spero che non svegli il cane della signora di sotto. Con Dario al terzo anno, da dimenticare. Luca e Arianna ridono come matti. Io sento di dover vomitare di nuovo. Lo sapevo. Sono stata la prima a cui l'ha detto quando è successo. Ma, se possibile, mi fa ancora più male di allora. Perché mi dà così fastidio? Perché non la smetto di fare domande idiote e non inizio ad accettare la realtà? Sono ubriaca. È l'alcol che parla. Entriamo nella nostra camera e ci buttiamo tutti e tre sul mio letto. Luca è al centro. Perché deve sempre stare in mezzo? Accidenti, questo alcol parla un po' troppo, però. Ho ricominciato a ridere anch'io, senza un motivo preciso. Che stronzata. Il motivo è che non voglio pensare ad Arianna e Dario insieme. Ecco, ora devo di nuovo sboccare. Tocca a te, Ari, dico ridendo, cercando di scacciare immagini terribili dalla mia testa. No, tocca a Luca, scema. Allora io dico verità, biascica Luca, alitandomi in faccia tutto l'alcol che ha bevuto negli ultimi cinque anni. Che schifo. Quante te ne sei fatte stasera? Chiede Arianna, per poi scoppiare a ridere tirandogli un pugno sulla spalla. Ma di chi è stata l'idea geniale di giocare a questo gioco? Ancora erano almeno tre. E una aveva due tette che… Va bene, ora tocca a Diana. No, tocca a te, rispondo all'armata. È almeno il terzo turno che riesco a saltare con questo stratagemma. Ubriachi come sono, è come rubare un lecca-lecca a un bambino. Ah, hai ragione! Esclama Arianna, alzando un dito verso il soffitto. Per l'appunto. Allora scelgo… Obbligo, dai! Ridacchia come una ragazzina alla sua prima cotta. Che bella risata che ha. Diana, maledizione! Questa è l'ultima volta che bevi! Devi baciare uno di noi due. Le parole di Luca mi colpiscono allo stomaco. Per un attimo sento il respiro che mi manca. Credo che il mio cuore stia per fare le valigie e per raggiungere il mio angelo custode a Onolulu. Dove sei ora che mi servi, eh? Improvvisamente, Arianna smette di ridere. Il suo sguardo si fa più serio. Lentamente scavalca il corpo di Luca, avvicinandosi al mio volto. Ok, mi sa che mi ha sentito. Non percepisco più il mio corpo, le gambe molli, le braccia abbandonate sul letto. Lei è troppo vicina. Senti il suo profumo misto all'odore dell'alcol. No, no, troppo vicina. Luca ci sta fissando, lo sento. Non ho la forza di girarmi. La verità è che, anche volendo, il mio corpo non risponderebbe. Posso confermarvi che il mio cuore ha preso il primo volo per le spiagge hawaiane, in caso qualcuno se lo stia ancora chiedendo. Ma di chi è stata la geniale idea di giocare a questo gioco? I nostri nasi si sfiorano. Sento il suo alito caldo sulle mie labbra. Chiudo gli occhi. Sta per succedere. Ha scelto me. Ha scelto. In un istante è finito tutto. Arianna si è allontanata di colpo, dopo aver depositato un leggero bacio sulla mia guancia destra, pericolosamente vicino all'angolo della mia bocca. Riapro gli occhi. Riprendo a respirare. Mi sento come se fossi appena risalita da una lunga immersione. Cerco di regolarizzare i miei battiti. Ah, il bastardo è tornato al suo posto, quindi. Dai, stronza, lo sai che intendevo sulle labbra. La voce lamentosa di Luca mi riporta alla realtà in un nanosecondo. Per una volta mi trovo d'accordo con lui. Dai, era chiaro che intendesse sulle labbra. Maledizione. Non l'hai specificato, mi dispiace, risponde lei, ridendo soddisfatta. Sono sempre i cavilli tecnici a rovinare tutto. Ora però tocca a Diana, aggiunge subito dopo. Scuoto la testa, cercando di riattivare le mie onde cerebrali. Cazzo. E non mi ha nemmeno sfiorato le labbra. Verità? Non ho intenzione di dare a quello stronzo di Luca un'altra occasione per mettermi in imbarazzo. Forse lui e il mio angelo custode sono amici. Si spiegherebbero molte cose. Vigliacca, dice lui, sbuffando. Brutto. Perché ti infili sempre nel mio letto? Salve, è la segreteria del corpo di Diana che risponde. In questo momento le nostre funzioni vitali non sono disponibili, ma la preghiamo di lasciare un messaggio dopo il segnale acustico. Bip. Cazzo. Perché me l'ha chiesto ora? Davanti a lui. Vedo Luca fissarla. La bocca leggermente schiusa. Poi si volta verso di me, in attesa. E ora che faccio? D'un tratto, tutto quello che non ho vomitato esce dalla mia bocca sotto forma di parole che sembrano buttate lì a caso. Ma che non so come formano una frase di senso compiuto. Eppure, è come se fosse un'altra persona a pronunciarle. Come se mi stessi ascoltando dall'esterno. Perché sei di casa? Il tempo sembra fermarsi per un istante. Mi sento come se fossi in una storia di Instagram. Mentre un annoiato ragazzino fa scorrere il display e decide di bloccare l'immagine semplicemente toccando il dito con lo schermo. È proprio così ora. Come se qualcuno stesse toccando il nostro schermo con il dito. Poi Luca scoppia a ridere. E subito dopo Rianna lo segue a ruota. Il ragazzino annoiato deve essere andato avanti. Avrà considerato poco importante questo momento, questo dettaglio. Stupido ragazzino annoiato. Inizio a ridere anch'io. Piano. Poi sempre più forte. Sforzo il mio stomaco a ridere e la mia gola ad accogliere quel suono così falso, così gracchiante. Voglio coprire con il rumore tutto questo. Non voglio mai più giocare a questo gioco. Stupido ragazzino annoiato.